Sì, noi sapevamo che era una partita molto dura, molto ostica, conoscevamo la squadra e i giocatori, l'abbiamo preparata bene, siamo stati bravi soprattutto al primo tempo, siamo calati un po' verso la fine, però dai. L'importante è aver vinto. Ti chiedo un commento personale sul fatto che sia un'antidoppia cifra, segnando ancora oggi. Sono contento per questo traguardo personale, ma l'importante è dare continuità alle vittorie della squadra. L'ultima sulla prossima partita, Brescello, un campo duro, Brescello che ha perso oggi con la Gazzanese. Appunto anche perché ha perso, avrà ancora di più il dente avvelenato, per cui noi cerchiamo di andare a Brescello come abbiamo sempre fatto finora, cercando di vincere. Perfetto, ringraziamo Giovanni.